Bene, carissimi, rinnovo il benvenuto, i presenti e tutti quelli che sono lì in ascolto. Come vedete queste catechesi vengono filmate, così che quelli che non possono venire ma che desiderano vederle possono poi rivederle. Noi le filmiamo perché abbiamo delle sedi territoriali diffuse in tutta Italia e anche a Međugorje dove si può seguire la catechesi video e poi però per chi desidera vedersene noi le raccogliamo in questi DVD, poi in ogni DVD c'è due dischetti, vedete, due dischetti, solo in ogni dischetto c'è una catechesi e li potete chiedere qui alla Dio Maria, così passano i posteri e nel medesimo tempo quelli che invece vogliono seguire la catechesi vedendo qualcosa, eccetera, se la seguono sulla pagina di Facebook, quella di Radio Maria, nello svolgimento della catechesi del rosario vengono inviate tutte le immagini e dei brevi filmati. Questo è, se viviamo nel mondo moderno cosa volete fare. Dunque, questa sera parliamo dell'Immacolata ed è una grande gioia parlare della Madonna perché in fondo si parla di nostra madre. È una grande gioia ma anche nel medesimo tempo io sento una grande incapacità e questo mi dispiace. Comunque, mentre stasera pensavo cosa potevo dire, mi è venuto in mente quello che dici Monfort che la Madonna è poco conosciuta. È poco conosciuta ed è per questo che Gesù Cristo è poco conosciuto. La Madonna è poco conosciuta, non solo è poco conosciuta ma tutto sommato, come lei dice in un messaggio, sì molti mi hanno seguito ma un numero enorme neanche mi prende in considerazione. E questo dispiace perché voi potete prendere tutto l'universo intero, tutto l'universo. Adesso mandano sonde da tutte le parti. E cosa vedono? Voi potete prendere tutto quello che volete. Nulla, nessuno è paragonabile alla Madonna. Cioè, la Madonna è ciò che di più grande Dio ha realizzato. Non c'è nulla e nessuno che ne si possa avvicinare. Nessuno. Quindi, se tu vuoi, non so come dire, se tu vuoi avvicinarti a Dio e vedere perlomeno la creatura più alta, se tu vuoi considerare le opere di Dio, attenzione che Gesù Cristo è un fuoriclass perché l'io di Gesù Cristo è un io divino. Quindi, voglio dire, la natura umana di Gesù ha un io che è divino, però la natura umana di Gesù viene dalla Vergine Maria e dallo Spirito Santo. Ma noi adesso vogliamo concentrarci sulla Madonna che è la più grande realtà che mai esista nella creazione. Non c'è nulla e nessuno che si possa avvicinare alla Madonna. Non dico che possa paragonarsi, ma non può essere neanche avvicinato. Difatti Dante, in una parola molto semplice, la descrive umile ed alta più che creatura. che vuol dire umile ed alta più alta di qualsiasi creatura. Cioè, nessuna creatura è paragonabile alla Vergine Maria. Nessuna. Ma hanno tutta una distanza stellare, una distanza, come si dice, inconcepibile. E al di là, la Madonna ha una grandezza che al di là di qualsiasi nostra rappresentazione e comprensione, ma è una creatura, ma è una creatura divinizzata. Dio ha realizzato in Maria Santissima il capolavoro dei capolavori. Per cui, se vogliamo proprio dirlo, la creatura più grande al mondo, la creatura più grande, la più vicina a Dio, è una donna. È una donna. Questo, bisogna prendere atto di questo, perché Dio poi abbia fatto questo, lo sappiamo benissimo. Perché, avendo Dio visto distruggere il suo piano a causa di una donna, perché a causa di una donna che il piano divino della creazione si è infranto, per cui si è preso la rivincita con una nuova creazione. Maria è la nuova creazione, senza peccato. E l'ha fatto con una donna. Cioè, una donna ha rovinato la prima creazione, ma perché si è lasciata inquinare dal veleno del serpente, anzi, è passata dalla parte del serpente, Dio ha realizzato una nuova creazione che le è fedele, che sarà fedele per sempre, tutt'oggi è fedele. Viene perché l'Onipotente la invia ogni giorno in mezzo a noi e la donna è la nuova creazione. È la creazione che, come Dio, l'avrebbe voluta. Insomma, questa povera umanità, questa condizione umana, inquinata dal male, dal peccato, dalla cattiveria, è inutile che stia a descrivere la condizione umana perché a star lì a parlare il male dell'uomo non c'è tanta voglia. Però, lo vediamo cos'è l'uomo, questa creazione afflita dal male, dalla cattiveria, dal peccato, dalla superbia, dalla spedatezza, dalla violenza, eccetera, questa realtà umana è stata riscattata, salvata e in Maria noi vediamo qual è il destino nostro, nostro, di noi che siamo inquinati dal male e dal peccato, di orati proprio dal veneno del male, il nostro destino è quello, un giorno di partecipare alla bellezza, grandezza, gloria di Maria che a sua volta è il riflesso di Gesù Cristo. Noi, parlando della Madonna, devo anche dire una cosa, che non parliamo, e mi viene da ridere così fa, si fa di mariologia, come se la mariologia fosse una scienza come l'urologia, non so per dire no, o cose di questo genere, e quindi si staria, no, no, la Madonna è una persona viva, è una persona, la Madonna è una persona, noi stiamo parlando di una persona che c'è, che è viva, che come lei dice nel messaggio Miriana, una persona che lei dice sono nel regno, ma anche qui in mezzo a voi, ha detto nel messaggio dell'altro ieri, sono nel regno di Dio, ma sono qui in mezzo a voi, dice la Madonna, quindi parliamo di una creatura concreta e parlando di questa creatura concreta che ogni giorno poi dal cielo scende sulla terra, ma al di là di questo, diciamo così, presenza straordinaria, c'è la sua presenza ordinaria nella nostra vita, cioè la Madonna ci accompagna ogni giorno, perché lei è la madre, lei è nostra madre, per cui è nostra madre, e tenete presente che lei nei suoi messaggi ultimi è un po' come il Papa Francesco, il quale dice che lui la chiese in uscita, dice insomma cerchiamo di andare incontro a tutti, la Madonna per dire che il Papa ha ragione, nei suoi due precedenti messaggi ha detto che lei è la madre di tutti gli uomini di tutto il mondo e questa volta per dire che lei è assolutamente in sintonia con il suo figlio, alla fine del messaggio dice di pregare per i pastori perché guardino sempre a mio figlio, che è stato il primo pastore del mondo e la cui famiglia era il mondo intero, quindi lei è la madre di tutti gli uomini, siamo quasi 7 miliardi, li conosce uno per uno, se ne prende cura uno per uno, li vuol portare tutti in paradiso, li vuol portare tutti in paradiso, che ci riesca un'altra cosa, però io la metto più volte, voglio portarvi tutti con me in paradiso, voglio salvare tutte le aline e presentarle a Dio, voglio presentarvi tutti come un buchè di fiori al creatore, quindi questa è, questa creatura meravigliosa che c'è, che è una grazia immensa, perché le grazie della redenzione sono lo Spirito Santo, la parola di Dio, lo Spirito Santo, l'Eucaristia, e i sacramenti della Madonna, una grazia straordinaria, allora noi dobbiamo cercare, prima di tutto, come dire, capire, capire che, non so come dire, è l'unica persona interessante, tra le creature, è la persona più interessante, perché, fra tutte le creature che ci sono, tu puoi trovare tutte le creature interessanti, ma io, guarda, io neanche le cerco più, io le creature neanche le cerco, perché, tanto, ho visto che sono simile a me, dico, non è che, voglio dire, non è che, sì, ma, qualcosa, alla fin fine, ciò che c'è di buono negli uomini, sapete cos'è che è? È qualcosa che loro non hanno e non sono, è la grazia di Dio, ma se togli quella, quindi, allora dico, se volete, se volete cercare qualcuno di interessante, perché io vedo i giornali, ogni pagina che esiste un vip, una vip, cioè, farfallone, cavolate, stringi, stringi, zero al quoto, cioè, l'enfimero concentrato, io, l'unica persona con cui dico la verità, mi trovo bene è la Madonna, lasciamo perdere Gesù Cristo, che lì mi tocca in ginocchia, mi adorare, ma, con la Madonna, mi trovo benissimo, perché è l'unica persona interessante, è, non si può descrivere la Madonna, il monofono l'ha detto, che è il paradiso di Dio, allora noi dobbiamo cercare, prima di tutto, come dire, capire, capire che, non so come dire, è l'unica persona interessante, fra le creature, è la persona più interessante, perché, fra tutte le creature che ci sono, tu puoi trovare tutte le creature interessanti, ma io, guarda, io non neanche le cerco più, io le creature neanche le cerco, perché, tanto, ho visto che sono simili a me, dico, non è che, voglio dire, non è che, sì, ma, qualcoma, alla fin fine, ciò che c'è di buono negli uomini, sapete cos'è che, è qualcosa che loro non hanno e non sono, è la grazia di Dio, ma se togli quella, quindi, allora dico, se volete, se volete cercare qualcuno di interessante, io vedo i giornali, ogni pagina che esiste un vip, una vip, cioè, farfallone, cavolate, stringi, stringi, zero al quoto, cioè, l'enfimero concentrato, io, l'unica persona con cui, dico la verità, mi trovo bene, è la Madonna, lasciamo perdere Gesù Cristo, che lì mi tocca inginocchiarmi a adorare, ma, con la Madonna, mi trovo benissimo, perché è l'unica persona interessante, è, non si può descrivere la Madonna, il monofono l'ha detto, che è il paradiso di Dio, a me basta dire che è nostra madre, è nostra madre, è di una, non so come dire, però, non è che mi accontente di guardarla, perché già guardarla, è un paradiso, d'altra parte, oh, guardate che Dio ci dà dei segni, voi vedete, quando per esempio c'è l'apparizione, che viene sempre filmata, è quella di Miriana, voi vedete, quando la Miriana, è nel momento in cui guarda la Madonna, è veramente, cioè voglio dire, non è come i falsi veggenti, capito, non so come dire, i falsi veggenti, che cascono per terra, non so come dire, cioè, sembrano malati psichici, la Miriana si trasfigura, ringiovanisce di vent'anni, trent'anni, in un minuto, non è una cosa che colpisce, colpisce molto, cioè voglio dire, adesso faccio piccole, vi dico, noi o me non ci facciamo più caso niente, ma io ci faccio caso invece, diventa di una, non so come dire, diventa bella, Miriana, quando vede la Madonna, diventa bella, ma di una bellezza divina, e dopo che smetti di vedere la Madonna, ricascano la sua umanità, e come dice Maria, è come saltare dal paradiso nel purgatorio, ritornare, ma tu pensa come la bellezza della Madonna, può trasfigurare una persona, la bellezza è una bellezza divina, è qualcosa che non si può descrivere, poi io faccio un esempio, io ogni mattina scrivo, scrivo un pensiero su Facebook, e sto attento, ma non c'è, mattina che io non faccio un errore di ortografia, porca miseria, perché sarò abituato, non sarò abituato, perdonatelo, non c'è verso, sto attento, uno, due, tre, ma come ci avevo guardo, non c'era niente di ortografia, voi non ci credete, e poi anch'io quando scrivo, scrivo un capitolo di un libro, leggo e rileggo, un giorno dopo rileggo ancora, e quando rileggo vedo parole fuori posto, frasi che non vanno, anche dal punto di vista grammaticale, e io ho fatto questo pensiero, ma come mai, scusa, quando Maria scrive i messaggi a lei, mi rileggo e vedo che lì detta, a chi è lì vicino, perché si rileggo c'è neanche la forza, Maria scrive lei i messaggi, lei scrive il messaggio, non fa neanche un errore, non fa neanche un errore, di ortografia, non solo, non fa neanche un errore nella lingua croata, non c'è mai una parola, un'espressione non grammaticale, non lessicale, fuori posto, neanche una, io parlo di croato, lo leggo anche in croato, il messaggio, perché in italiano traducono abbastanza male, perché molte volte sono i croati che sono là che traducono, e quindi non è la loro lingua, ma tu lo leggi in croato, un croato perfetto, perfetto, non c'è nessun errore di grammatica, di sintassi, di niente, una lingua pulitissima, senza neanche un errore nello scrivere, no, per dire i piccoli segni che Dio ci dà, ma che su cui noi non facciamo più neanche, non ci facciamo neanche caso, ovviamente. Allora, io dico, noi dovremmo dedicare la nostra giornata, la nostra vita, noi dovremmo, tanto più che abbiamo questa grazia immensa, la nostra generazione ha la grazia più grande che abbia mai avuto la storia cristiana da duemila anni. Cioè, la generazione contemporanea di Gesù Cristo, dico gli ebrei, del suo tempo, hanno avuto la grazia incommensurabile di vedere il figlio di Dio qui su questa terra, quindi di ascoltare la sua parola, poi cosa hanno fatto? L'hanno preso e l'hanno ammazzato. No comment. Però, quella generazione ha avuto questa immensa grazia, comunque. La nostra generazione ha la grazia di avere qui la Madonna da 34 anni che appare ogni giorno, che ci guida con i suoi messaggi, che ci consola, ma il solo fatto che il cielo si apra e lei scenda sulla terra. Solo questo fatto è un rafforzamento della fede enorme, perché uno dice, ma allora se c'è la Madonna c'è il paradiso, se c'è la Madonna è tutto vero il cristianesimo, se c'è la Madonna il male non vincerà. E sono cose che la nostra generazione ha questa immensa grazia. Cioè, poi è la Madonna che è presente nella vita, tu lo vedi, la gente che va a Meggiugorie scopre che c'è la Madonna, che Maria è nostra madre, che Maria è presente, torna cambiata. Capito? Torna cambiata. E questi qui che sono cambiati, tu li paragoni agli altri. A me capita, no, che non dico paragoni, cioè, io vedo che chi scopre la presenza di Maria nella sua vita, scopre la presenza di Dio nella sua vita. questa è la verità. Chi non scopre la presenza di Maria è chi si infilie e chi sta fuori. Ma io lo vedo, sono zombie che camminano. Cioè, io non voglio disperzare le persone, però, come dice la Madonna nel messaggio precedente, quello a Maria, dice, non sapete né chi siete né dove andate. Ma questa è la verità. Cioè, gli uomini oggi, la stragrande maggioranza, eccetto pochi, non sanno né chi sono né dove vanno né cosa stanno a fare su questa terra né cosa succede quando muore. Sono precipitati in una banalità che vivono come, non so come dire, come animali. Ma gli animali non sono consapevoli di essere animali. L'uomo vive come animali ma tristi perché sentono che quello che hanno nel fondo del cuore non viene soddisfatto. cioè il bisogno di bellezza, di eternità, di amore, di santità, di immortalità. Tutto questo viene soddisfatto e sono nella tristezza del male, nella tristezza del peccato. Per cui, la Madonna è qui, è qui per farsi conoscere, è qui per irradiare la sua luce, è qui per raccontare i suoi figli, per portarli a Dio, per portarli a Gesù. Perché la vera evangelizzatrice oggi è la Madonna. Se non ci fosse lei, figlioli cari, va sicuro che la Chiesa non so che fine farebbe. Perché anche i papi, sì i papi, ma i papi sono tutti devoti alla Madonna. Quello è il fatto. Uno più devoto dell'altro. Questo qui poi non fa nulla senza prima andare a parlare con la Madonna e poi quando torna fare il report alla Madonna. Capito? È una cosa incredibile, non lo ostenta, ma di una pietà mariana Paolo Franciano è una cosa incredibile. Non per niente la Madonna ha detto il mio amatissimo Papa, quindi il mio amatissimo Santo Padre ha detto. quindi vorrei dire perché dico tutto questo? Perché per dirvi questo chiedete alla Madonna la grazia che voi la conosciate. Perché non si riesce a conoscere da soli non si conosce. Io ho notato che se lei non te lo rivela tu non la conosci. Per esempio uno che va a Meggiorie come mai torna tutto contento? Perché la Madonna lì ha detto io do qui particolari grazie. Lì dà la grazia di farsi conoscere. Lei dà la grazia di farsi conoscere. Allora questa grazia va chiesta ma proprio chiedetela io dico ho capito che bisogna chiedela. chiede alla Madonna la grazia di far sì che tu la conosca. La conosca prima di tutto come madre e poi nel suo mistero che è un mistero meraviglioso meraviglioso di santità di bellezza di grazia di bontà ma poi è un mistero che ti riguarda perché perché come lei come lei noi saremo. Cioè noi i suoi figli se viviamo nella fede nell'amore nel pentimento dei peccati perché la Madonna è stata preservata dal peccato ma anche noi col pentimento dei peccati possiamo ottenere la grazia la grazia santificante essere ricolmi di grazia come lo era lei. non così però non c'è dubbio che noi condividendo vivendo nella fede nell'amore noi noi come saremo eternamente come saremo fra qualche anno figlioli perché tutti noi fra qualche anno siamo tutti siamo tutti come si dice come diceva il Papa gli stavano ieri mattina diventiamo tutti vermi va bene ma quello è il corpo ma noi in cielo saremo tutti immagini di Maria noi in cielo saremo tutti immagini di Maria Maria a sua volta immagini di Cristo lei riflette la gloria di Cristo e noi riflettiamo la gloria della madre perché tutte le grazie passano attraverso Maria quindi la gloria di Cristo risorto arriva a noi attraverso il cuore di Maria cioè attraverso la potenza dello Spirito Santo che arriva a noi attraverso il cuore di Maria e veniamo trasformati elevati resi partecipi della sua bellezza quindi quella è il nostro destino qual è il nostro destino per cui anche quando i veggenti dicono in paradiso mi vengono a ridere sono grassi nei mari nei vecchi nei giovani sono tutti sì c'è un modo di dire è molto meglio dire in paradiso saremo tutti simili alla Madonna si fa prima a dire così cioè loro hanno visto quello che hanno visto però se noi diciamo se vogliono sapere come saremo come saremo simili alla Madonna lei è la perfetta immagine di Cristo risorto e noi saremo simili alla madre d'altra parte i figli sono simili alla madre sono simili alla madre ma non al padre no perché il padre non c'è perché noi siamo concepiti nel grebo di Maria però proprio dallo Spirito Santo e quindi lo Spirito Santo ci rende simili a Maria è il nostro destino è quello che saremo per cui noi dovremmo pregare così dire alla Madonna dire alla Madonna fammi conoscere chi sei punto primo introducimi nella conoscenza di te perché possa possa conoscerti possa amarti possa seguirti e poi chiedere rivestimi tu della tua santità bellezza e grazia rivestimi della tua santità della tua bellezza della tua grazia perché dobbiamo pregare così perché la santità è un dono di Dio che ci arriva attraverso Maria la santità di Cristo ci arriva attraverso la santità di Maria per cui noi dobbiamo dobbiamo avere questa questa umiltà di dire preparami tu all'incontro con Gesù rivestiti della tua santità bellezza e grazia io vi dico che una volta ho fatto sorridere la Madonna lo sapete allora i primi tempi che si fanno i giugori ve la racconto perché questa è bella i primi tempi che si fanno i giugori si è un po' matti diciamo le cose come sono poi io ero un po' diciamo così eravamo nel 1987 mi ricordo che mi ricordo io ero molto lì maggiore per stare una quindicina di giorni insieme a Maria di cui ero amico ma lei dopo due o tre giorni se ne è andata non so dove che mi ha fatto pure arrabbiare e mi ha piantato lì io dico vabbè ma cosa faccio dico boh dico era un pomeriggio di domenica c'era nessuno in giro cosa faccio boh sono andato su nella casetta di visca con la con la paterna no che c'era la scala aperta lì c'era la stanza delle apparizioni erano le 4 del pomeriggio sono andato su no no non era quella volta lì era un'altra no quella volta lì era una volta che poi sì sì no quella volta lì era una volta in cui sono andato su poi la Madonna è venuta la Madonna è venuta e è apparsa per tre quarti d'ora una cosa che una grazia che io ho avuto perché così ho potuto studiare l'apparizione io ho avuto la grazia di essere da solo a studiare da solo in una stanzetta l'apparizione per 45 minuti i primi 5 minuti ho pregato poi ho guardato tutto ho considerato tutto ho valutato tutto ma non c'è niente da fare lì non si scappa ho esaurito proprio la curiosità di verificare una volta ho detto a Visca senti Visca chiede la Madonna siccome qui eravamo nel 1987 la Madonna dava i primi messaggi dove ci invitava la santità cioè i primi messaggi alla parrocchia non diceva così mai ma dall'88 la Madonna dall'87 la Madonna incominciamo a invitare alla santità al cammino di santità allora gli avevamo detto Visca chiede la Madonna se ci aiuta a diventare santi oppure chiede la Madonna di aiutarci a diventare santi lei fa io non chiedo niente perché non chiedi niente no lei fa no no io perché lei pensava che i santi fossero quelli che fanno i miracoli no dico no io per me non chiedo questa cosa se vuoi la chiedo per te per mia sorella che sua sorella Anna era una santocchia no allora e allora fa le chiedo per mia sorella va bene ora c'è l'apparizione io vedo che durante l'apparizione Visca fa così e così come per dire alla Madonna diceva padre Livio e Anna ti chiedono di aiutarli a diventare santi allora alla fine dell'apparizione Visca fa ma lo sai che la Madonna ha sorriso ha sorriso di gioia la Madonna ha sorriso di gioia cioè il nostro desiderio di essere simile a lei cioè il nostro desiderio di diventare santi la fa scoppiare di gioia la fa sorridere di gioia è una cosa bellissima quindi per dire come dobbiamo diventare così intimi con la Madonna da far sì che lei sia proprio la guida del nostro cammino di santità però questa sera dopo questa introduzione con la quale volevo dirvi che la Madonna è una realtà viva presente oggi è nostra madre si occupa di noi è con lei che ci sta vicino tutta la giornata di giorni e di notte come lei dice nel messaggio a Miriana lei dice so che molti di voi stanno perdendo la speranza perché vedono intorno a sé sofferenza dolore celosia invidie ma io sono vostra madre cioè vede tutto capisce tutto sa le nostre difficoltà sa diciamo i nostri desideri e ci legge nel fondo del cuore allora detto questo però io vorrei che riuscissimo a capire bene questa grande questa grande realtà della Madonna che è immacolata perché allora comprendiamo perché è veramente la creatura è il capolavoro di Dio cioè la Madonna la Madonna è già all'inizio della storia della salvezza perché perché dopo il peccato di Eva cioè dopo che la creazione di Dio che colminava nella prima copia ha quindi capostepite dell'umanità hanno deciso di seguire il diavolo perché questa è la realtà come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica hanno disprezzato Dio e hanno ascoltato il diavolo cioè hanno pensato che Dio fosse bugiardo e che il diavolo discesse la verità e sono passati dalla sua parte una catastrofe noi siamo quelli figli di Eva cioè figli di quelli che hanno hanno voltato l'esperia a Dio e scelto il diavolo questa è la verità allora Dio non si è arreso capito non ha fatto come quello scultore che se ha rotto una statua ne costruiscono un'altra no Dio Dio e non dopo questo dramma originario Dio ha già pensato di 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 a una nuova creazione una nuova creazione questa nuova creazione la capostipide di questa nuova creazione è Maria Santissima difatti quando cacci i progenitori da parigi di un terrestre dice al serpente però inimicizia fratella donna guarda che è una profezia impressionante che risale nei secoli dei secoli però inimicizia fratella donna metti che questa profezia risale all'inizio della storia dell'umanità guarda com'è attuale inimicizia fra il diavolo e la donna è la battaglia di oggi non è che sia una cosa c'è un'attualità incredibile fra la sua stirpe e la tua stirpe cioè la stirpe della donna è Cristo e tutti i credenti la stirpe del demonio sono i figli del maligno come li chiama Gesù Cristo no? i figli del maligno e la stirpe della donna ti schiaccerà la testa guarda qui c'è la profezia che si illumina tutta la storia dell'umanità ma specialmente il nostro tempo allora quindi Dio già già dall'inizio aveva voleva una voleva una nuova madre di tutti i viventi cioè una nuova Eva allora allora questo è il punto questa nuova creatura che Dio ha concepito nella sua mente e che ha preparato un ricorso della storia doveva nascere da due genitori che per quanto riguarda la Madonna sono due genitori che conosciamo sono Santana e San Giochino questi due genitori sono figli di Eva e di Adamo come tutti noi e quindi con le conseguenze del peccato originale che viene trasmesso per generazione cioè il peccato originale ci è stato trasmesso dai progenitori per generazione il peccato originale in che senso? non quello che hanno commesso Adam e Eva ma le conseguenze del peccato quindi la lontananza da Dio il potere del maligno su di noi l'impossibilità di andare in paradiso la potenza del male che opera dentro di noi cioè nasciamo inquinati tutti gli uomini nascono inquinati e trasmettono questo veleno di generazione in generazione questo veleno qui viene tutto solo da battesimo non c'è santo che tenga il veleno del peccato originale il veleno della serpe è diventato solo attraverso il battesimo solo attraverso la grazia del battesimo non c'è niente da fare allora quindi da Sant'Anna e San Gioacchino doveva nascere questa bambina col peccato originale perché anche essa è la figlia di Eva e allora cosa è successo? è successo questo che siccome San Paolo dice che in Adamo tutti hanno peccato e nessuno è escluso c'è sempre stata nella storia della Chiesa una tendenza di teologi soprattutto che dicevano comunque anche la Madonna è nata col peccato originale comunque almeno per un istante ha avuto il peccato originale perché se no sapete San Paolo che tutti in Adamo hanno peccato ma fin dall'inizio ma però fin dall'inizio c'era una diciamo così una corrente molto più vasta nella Chiesa che ha sempre pensato che la Madonna fosse stata preservata dal peccato originale e quindi che in lei non c'era nessun veleno la sua natura umana era totalmente incorrotta santa piena di Spirito Santo piena di grazia difatti l'Angelo Gabriele come la saluta ave o piena di grazia cioè lei la Madonna avrà detto cosa vuol dire l'avrà capito non lo sappiamo però certamente questa è la la singolarità di Maria cioè l'unica creatura che non ha ereditato gli effetti del peccato originale quindi è ripiena di Dio è totalmente orientata a Dio in lei c'è nessuna traccia di male solo su di lei solo su di lei Satana non ha dunque fra tutte le creature del mondo non possiamo parteci su Cristo come creatura perché è il creatore quindi fra la natura umana di Cristo ovviamente l'assenza del peccato originale ma quella è un mistero a sé diciamo ma fra tutte le creature del mondo cioè tutti i figli di Eva fra tutti gli uomini di tutti i tempi l'unica persona che è integra piena di grazia senza traccia di male e di peccato tutto orientata a Dio è solo la Vergine Maria che non solo ha nessuna traccia di peccato in sé è rivetata da Adamo ma soprattutto non ha mai commesso nessuna imperfezione personale nessun peccato personale quindi in lei c'è la pienezza della grazia ma anche la pienezza della corrispondenza alla grazia perché non è che voglio dire non è che Dio Dio fa questo capolavoro se molti dicono sempre Maria è il capolavoro di Dio Dio ha fatto quel che ha fatto sì sì però Dio ha fatto quel che ha fatto ma se la Madonna non corrispondeva faceva la fine di Lucifero cioè voglio dire non è che la Madonna non è che la Madonna è stata di osservare cioè la Madonna è pienezza di grazia è totale corrispondenza alla grazia noi compriamo la grandezza della Madonna se guardiamo alla sua corrispondenza alla grazia che è qualcosa che che ti rapisce ma tu leggi nei messaggi di Međugorje a me cadere in cielo ma guarda ha uno zero per il figlio ha uno zero per le anime che ti commuove nessuno parla come la Madonna dicono se a perdere i fuori classe che è Gesù Cristo fuori quota perché è Dio ma nessuno parla come la Madonna nessuno ha la santità della Madonna e lei nelle sue parole c'è una santità che che io guarda mi commuove ma non međugorje tutte le sue apparizioni ogni sua parola trabocca di santità di amore di zero materno di adorazione di Dio di zero per Dio di dedizione a Dio di dedizione che è una cosa commuovente allora state attenti chi è la Madonna sto scrivendo un libro sull'umiltà ieri ho scritto questo capitolo perché è una cosa che dunque perché perché Lucifero è diventato l'angelo ribelle perché ho prima detto ho parlato di Lucifero Lucifero creato da Dio gli angeli furono creati come dice Sant'Omaso d'Aquino nel primo istante furono creati e derivati in grazia ma non ancora nella visione beatifica quindi era nell'ambito della fede però nella pienezza di grazia nel secondo istante hanno deciso se sottomettersi a Dio o ribellarsi a Dio dunque cosa ha fatto Lucifero è semplice lui era la creatura più grande che si è mai stata creata allora e quindi cosa ha fatto vedendosi così grande invece di ringraziare Dio si è ammirato ha distorto gli occhi da Dio ha guardato se stesso e ha voluto essere al posto di Dio una catastrofe è diventato un demonio non è stato fisso in Dio cioè vedendo la sua grandezza ha voluto dare la sua grandezza fuori di Dio non è stato stabile in Dio non è stato fisso in Dio state attenti alla Madonna ma è una cosa guardate voi immaginate non so come dire supponiamo che adesso mi venga a Paia qui l'Arcangelo Gabriele e dice padre Livio ma tu veramente sei un fuori quota sei una persona straordinaria ma il cielo ti ammira guarda che roba e io cosa faccio che roba mamma mia ma cosa ho fatto mi ha mordi capito noi siamo così cretini noi siamo così cretini stai attento appare l'Arcangelo Gabriele la Madonna e gli dice ave ho piena di grazia non batte ciglio non batte ciglio Dio l'ha preparata con un'umiltà abissale cioè se la Madonna non avessi avuto una grazia abissale dell'umiltà ave o piena di grazia mai si trova nella scrittura una parola così piena di grazia mica 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 ma te lo specco guardassi mica sei guardata non ha battuto ciglio fissa in Dio si vede in Dio nella sua creaturalità nel suo nulla poi poi li rivela quindi questa perché la parola piena di grazia è quell'espressione che la Chiesa su cui la Chiesa ha riflettuto per dire che la Madonna è l'immacolata perché una pienezza di grazia tale per cui per cui non c'è nessuna possibilità di nessuna infiltrazione del male la Madonna nella luce dello Spirito Santo ha ben compreso cos'era questa espressione piena di grazia cioè ha capito ha capito che era una cosa ma però non è che si sia esaltata non è che si sia creduto a qualcosa non è che si sia guardata è rimasta umile stabile fissa in Dio non c'è stato niente da fare quindi davanti a questa rivelazione che lei era la piena di grazia lei non cioè non non mi ha detto mi ha detto ma scusate che cosa ha fatto non sono mica degno zero zero poi gli ha detto il Signore è con te eccetera 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 poi gli ha fatto gli ha fatto l'altra rivelazione che è ancora più inaudita sbalorditiva cioè la rivelazione che lei sarebbe stata la madre del Redentore capito che lo Spirito Santo sarebbe sceso su di lei che avrebbe concepito un figlio che avrebbe stato grande che avrebbe portato il regno di Dio una cosa del genere ragazzi lei è rimasta immutabile immutabile mica si è esaltata mica ha creduto mica ha detto mica ha fatto no no zero zero e è rimasta cioè radicatissima nella sua umiltà nel suo sguardo fisso in Dio nella consapevolezza che era una creatura che era un nulla l'unica parola che è uscita è stata come avverrà questo che non conosco un uomo cioè qui la grande esegesi tutte concordano nel dire che la Madonna aveva fatto il voto di virginità e quindi era preoccupata per quello ha avuto assicurazione su quello di fatti cosa mette l'angelo cosa risponde lo Spirito Santo scenderà su di te eccetera dopodiché cosa dice di fondo a queste rivelazioni inaudite cioè praticamente davanti a questa fanciulla Dio rivela un piano di cui lei è come si dice il cuore di questo piano cioè lei capisce che Dio la posta in una condizione sublime ma rimane totalmente fissa nella sua umiltà nella sua naturalità nella sua adorazione non so come dire io rimango sbalordito io rimango sbalordito cioè la Madonna guardate che è la prima grazia che la Madonna ha avuto la prima grazia che la Madonna ha avuto prima di essere consapevole di essere immacolata di essere la madre di Dio e tutto quello che è venuto la prima grazia che la Madonna ha avuto è stata quella dell'umiltà una grazia eccezionale che le ha permesso di rimanere salda dove Lucifero ha vacillato Lucifero di fronte alla rivelazione della sua grandezza ha vacillato la Madonna che era molto più grande di Lucifero perché è chiamata a diventare la madre del Redentore è rimasta stabile nella sua umiltà che è una cosa che stupisce cioè questa è Maria questa è Maria ma se tu guardi i messaggi parlo di quelli di Međugorje o quelli delle apparizioni di tutti i messaggi delle apparizioni approfetti della Chiesa in tutte c'è il trionfo di Dio non c'è mai il suo io se non per dire io sono vostra madre tutto orientato a Dio difatti risponde io sono l'ancella del Signore ma è una meraviglia delle meraviglie se tu pensi è per quello che capito tu vedi subito lì da come lei ha risposto a questa rivelazione che metteva lei nel cuore della redenzione perché come dice bene Monsignor Forte la Madonna è la Madonna la Mariologia è il luogo di incontro di tutti i dogmi della Chiesa c'è niente da fare per dire in termini teologici lei è rimasta radicata nella sua umiltà nella sua nel senso proprio della sua dipendenza radicale da Dio nel senso del suo servizio di Dio e tu la vedi che è così oggi e qua parla proprio è sempre così c'è come la serva del Signore qui solo per darci una mano per aiutarci non c'è mai se stessa da nessuna parte non si crede nulla e sa di essere quello che è ma di fatti quando il 25 marzo del 1954 finalmente la Madonna decise di dire a Santa Bernadette il suo nome la Madonna le aveva chiese tre volte no e la Madonna non rispondeva la terza volta ha sorriso poi poi si è chinata e Mette diceva io sono l'immacolata Concezione ha aperto le mani e alzato gli occhi ma l'avete in un modo come lo scrive Bernadette in un modo dove si è vista tutta la grandezza di Maria e tutta la sua umiltà una cosa una creatura così io spero di io spero di contemplare in cielo è per quello che quando Giovanni Paolo II è morto negli Stati Uniti Ivan ebbe l'apparizione della Madonna quattro ore dopo e vide Giovanni Paolo II rapito nella contemplazione della Madonna uno dirà eh cosa c'è da guardare figlio di cari cosa c'è da guardare guarda l'umiltà della Madonna guarda il suo amore per Dio guarda la sua purezza guarda la sua non so come dire tutte le virtù ma c'è ma non so come dire è è qualcosa di straordinario questa dunque per dire eh è un piccolo sforzo che sto facendo per aiutarvi a per dirvi chiedete alla Madonna la grazia vi dico questo solo chiedete alla Madonna la grazia che vi sveli il suo mistero di creatura totalmente dedicata a Dio e totalmente dedicata a noi come nostra madre questa è la prima cosa che vi dico adesso vado verso la fine verso la fine cioè adesso cosa volevo dirvi a me l'espressione devozione alla Madonna che lo si dici vabbè sono modi di dire non è che mi piacciono granchene eh cioè per me ci voglio dire senza la Madonna non c'è vita cristiana questo è che dico io senza la Madonna non c'è vita cristiana ma aveva ragione Paolo VI non si può essere cristiani se non si è mariani perché è la Madonna che ti dona Gesù e che ti porta a Gesù perciò nella concretezza della nostra vita vi dico questo vi dico chiedete alla Madonna cioè accettate alla Madonna come madre nella vostra vita dite alla Madonna ti voglio come madre tu mi hai preso come figlio io ti voglio come madre tu mi guidi tu mi conduci tu mi proteggi tu mi porti in paradiso ma dovendo dirlo tutti i giorni in questa giornata tu mi guidi mi fai conoscere la volontà di Dio mi aiuti a farla tu mi proteggi tu mi difendi tu mi aiuti state tranquilli che lo fa lo fa e poi ricordatevi che la vera devozione alla Madonna sapete in cosa consiste? consiste in questo che tu sai dentro di te che lei ti ama e che e che non ti abbandonerà mai per cui vedete che questo messaggio qua all'inizio fa tenetelo ben a mente perché vi dico l'amore trionferà cioè io trionferò lei tenete ben a mente perché vi dico l'amore trionferà so che molti di voi stanno perdendo la speranza perché vedono attorno a sé sofferenza dolore gelosia invidie ma io sono vostra madre sono nel regno ma anche qui in mezzo a voi mio figlio mi manda nuovamente affinché vi aiuti perciò non perdete la speranza ma seguitemi perché il trionfo del mio cuore è nel nome di Dio cioè c'è niente da fare cioè voi siete devoti dalla Madonna se vi fate condurre ogni giorno se non perdete la speranza se siete sicuri che lei non vi abbandonerà mai e voi non l'abbandonatela mai perché è nessuno più di lei vi ama nessuno più di lei vi protegge e non preoccupatevi di Gesù Cristo che ve lo rivela a lei ve lo fa conoscere lei vi nutre di lui lei la Madonna ci sta nutrendo tutti del Vangelo di Gesù Cristo ci sta nutrendo con la sua parola ci sta portando a lui capito perché vi dico queste cose sono cose importanti quello che vi dico perché andiamo verso tempi in cui andiamo verso tempi in cui voi vedete vedete che già adesso che in fondo non è che siamo non è che siamo in una situazione tremenda del mondo siamo in una fase difficile però già in questa fase difficile noi già perdiamo la speranza già perdiamo la speranza capito? figuratevi fra qualche tempo cosa perdiamo dico allora andiamo in conto a tempi in cui l'attaccamento alla Madonna la fiducia della Madonna saranno la nostra arma vincente cioè vinceremo con lei cioè chi si affiderà alla Madonna la citerà come madre la sentirà nel cuore in modo tale che io non ti lascerò mai perché so che tu non mi lascerai mai questi su queste persone il diavolo non potrà niente non potrà niente le difende tutte una per una questa è questa la Madonna vuol portarci a questa quando parli di Apostoli di Maria vuol portarci a questo capito? che noi siamo veramente suoi siamo suoi perciò nel vostro cuore irrobustite questo attaccamento alla Madonna irrobustitelo fate che sia proprio nella vostra vita che sia proprio vostra madre vostra sorella vostra amica quello che volete voi io quando vado al mattino comincio a lamentarmi con lei fa freddo mi fa male qua mi fa male là dopo 10 minuti che mi sono un po' riportata allora comincio a dire l'Angelus ma io non tutte le mie lamentere sempre ogni cosa mi vado a lamentare davanti a lei no io su un quadro tutte le parti dove vado ovunque lo sguardo c'è la Madonna che mi guarda e allora vado a lamentare davanti a lei ma nel medesimo tempo vado a pregare per tutti quelli che mi dicono di pregare dico i nomi eccetera vado a alcuni listini dico faccio non è che sto lì a fare tante cose se sto lì a rispondere molti mi scrivono ma io non rispondo ma cosa rispondo a fare a voi io vado a dire alla Madonna vado a dire alla Madonna direttamente ma io noto che a volte lei è molto seria a volte sorridente nei quadri ma vi dico una cosa che molti sanno che anche per loro è la medesima cosa cioè è una persona viva è una madre che ci segue che ci aiuta che interviene è una cosa meravigliosa come dire è la nostra luce la nostra forza è la nostra arma della vittoria contro contro il diavolo noi Dio ce l'ha avata apposta Gesù Cristo ce l'ha avata la Madonna accompagna Gesù Cristo nella sua vita e poi ce l'ha avata perché accompagni noi e perciò prendiamola prendiamola come madre nel nostro cammino ecco noi per il momento terminiamo potete continuare moltissimo su queste cose perché mi piacciono tantissimo queste cose qui mi piacciono molto cioè tutto quello che vi ho detto l'ho sentito l'ho sperimentato nella vita lo vivo nella vita perché senza la Madonna non ci sarebbe neanche la Deo Maria ricordate non ci sarebbe la Deo Maria perché lei ci ha protetto guidato fa fa tutto fa tutto fa tutto è una cosa meravigliosa quindi sulla mia pena ho provato quanto la Vergine è potente contro il male grazie a tutti